Se ha sentito parlare della protesta fatta agli studenti per la proroga del DSU e cosa ne pensa? Sì, l'ho sentita ovviamente, ne sono a conoscenza, abbiamo già interloquito con molte associazioni studentesche e siamo al lavoro per poter garantire anche a loro un sostegno ancora maggiore rispetto a quello che già garantiamo perché sappiamo bene che in questa situazione di difficoltà straordinaria c'è bisogno ancora di più di misure straordinarie. Quindi siamo al lavoro e contiamo nei prossimi giorni di poter dare a queste studentesse e a questi studenti una buona notizia.